La discesa costante dei contagi è sicuramente una bella notizia per la nostra regione e in attesa di un calo significativo anche dei ricoveri, l'Abruzzo spera al più presto di uscire dalla zona rossa. Ma c'è il Natale alle porte, ma anche l'arrivo in Italia nei prossimi giorni delle prime dosi di vaccino e questo è sicuramente un altro fattore rilevante, come spiega i nostri microfoni, il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, Jacopo Vecchiet. A me sembra che a livello nazionale ci sia un miglioramento dei dati ed è un miglioramento che mi pare di poter dire anche qui da noi in Abruzzo, purtroppo forse non in tutte le province, un po' a macchia di leopardo, però in linea di massima mi sembra che stiamo notando, probabilmente anche in virtù di queste restrizioni date nei giorni precedenti, un miglioramento. Sono dell'idea che le manovre di contenimento che sono così impattanti sulla qualità della vita di molte persone poi hanno un riverbero assolutamente positivo che le tutelano dal contagio con questo virus che si trasmette attraverso il passaggio da persona a persona. Credo che se in questo momento noi stiamo vedendo una riduzione del numero dei contagi è in virtù di quelle misure intraprese. Rimane il fatto che al di là di quelle che saranno le aperture, io mi auguro che vista l'esperienza così devastante avuta quest'estate, ognuno di noi, cioè le persone, vadano oltre il dispositivo del governo. Ci vuole un atteggiamento di grande prudenza che tutela noi e chi è vicino a noi, che sia fragile o meno fragile. Il Natale vedrà comunque inevitabilmente delle riunioni di famiglia, seppur ridotte, c'è preoccupazione per quello che potrà accadere dopo? Guardi, queste sono precauzioni che ripeto debbono essere prese in virtù del fatto che un evento così bello ed emozionante come il Natale non deve trasformarsi in un problema di salute per nessuno. Quindi ognuno di noi, al di là del dispositivo, di questi benedetti di PCM, deve avere una capacità di leggere qual è il rischio e comportarsi di conseguenza. In termini assoluti io sono assolutamente favorevole alla vaccinazione, non solo ovviamente per il Covid. Al momento capisco alcune perplessità perché molte delle notizie che noi abbiamo sono legate alle agenzie di stampa, che sono legate alle aziende che producono il vaccino, però credo che noi abbiamo degli organi regolatori che tutelano in termini di validità e sicurezza. Quindi da questo punto di vista, quando le organizzazioni europee e nazionali daranno l'ok per la distribuzione, credo che tutte le perplessità possano essere assolutamente risolte.